Ecco, allora siamo qui oggi per la cerimonia di presentazione, di premiazione, della prima occasione in cui si tiene una borsa di studio intestata a Ilaria Caccia, è un evento che si intende ripetere anche in futuro, per cui questa è la prima edizione. Io, Alessandro Arcangeli, introduco e coordino l'evento, che nasce dalla sponsorizzazione della famiglia di Ilaria, che poi ce ne presenterà anche un ricordo, ed è, vede la partecipazione di due istituzioni, il Dipartimento Cultura e Civiltà dell'Università di Verona, di cui anche io e Alfredo Bonapane siamo membri, di cui Arnaldo Soldani è direttore, e l'Associazione Italiana per la Ricerca sulla Danza, di cui pure anch'io sono membro del direttivo, di cui Francesca Falcone è la presidente, e fra l'altro Bianca Maormaier, anche uno dei membri attivi. Avremo, dopo di me, il direttore che ci dà il benvenuto, visto che siamo ospiti anche della piattaforma Zoom, con la licenza dell'Università di Verona, per questo evento, e poi Francesca Falcone, che ce lo dà per conto dell'associazione, e potrà presentare brevemente anche che cos'è questa associazione. Diciamo che questo evento è nato da un episodio tragico, dalla scomparsa di una giovane, ma è stato colto come occasione per rilanciare una sua passione e un tema di ricerca, e per cui, accogliendo l'opportunità anche della generosità della famiglia, come studiosi, come comunità di studi, ecco, trasversalmente fra un ente pubblico come l'Università e una société savant, come è un'associazione di studiosi che si occupano di un tema, si è unite le forze per lanciare un bando per il premio di tesi magistrali o di dottorato che fossero state discusse entro gli ultimi cinque anni in qualsiasi parte del mondo, nelle quattro lingue che ci sembravano più abbordabili, e abbiamo ricevuto, come diremo poi anche con la lettura della motivazione della premiazione, delle proposte molto valide, anche significative del numero, per cui è stata un'esperienza. Anche per la commissione che se ne è occupata è stata un'esperienza molto significativa. La commissione era composta da me, quale rappresentante del Dipartimento, da Francesca Falcone in rappresentanza dell'associazione, in più da docenti studiosi di danza in rappresentanza della realtà, del mondo degli studi, anche al di fuori dell'Italia, Federica Bagnera come una studiosa esperta segnalata dalla famiglia, e Fredrik Nerebaut, un collega olandese che è studioso della Grecia antica, ma anche specialista di studi di danza, ad arricchire il panel sul piano internazionale. Ecco che su questa base abbiamo formato un gruppo che ha lavorato molto bene, nel mese tra ottobre e novembre ha valutato i lavori, a volte anche molto impegnativi, molto ampi che abbiamo ricevuto arrivando alla scelta. Quindi passerei direttamente la parola al direttore Arnaldo Soldani per i saluti da parte del Dipartimento Ospite. Allora, buongiorno, buonasera ormai a tutti, benvenuti a questa bellissima occasione di incontro e di premiazione. Vorrei anzitutto ringraziare anche a nome del Dipartimento coloro che hanno contribuito in maniera fondamentale alla realizzazione di questa piccola impresa, che speriamo poi possa continuare anche nei prossimi anni. Anzitutto la famiglia di Laria Caccia e l'associazione dei familiari, quindi l'associazione italiana di ricerca sulla danza con la sua presidente Francesca Falcone, e poi tutta la commissione che ha lavorato, come ha spiegato poco fa, il professore Arcangeli. In primo luogo dunque il presidente della commissione, lo stesso Alessandro Arcangeli. Poi mi preme davvero esprimere il mio ringraziamento anche personale ad Alfredo Bonopane che di tutta questa impresa è stata l'anima nascosta prima, e poi non così nascosta, ma insomma è la persona che attraverso la sua azione ha contribuito in maniera fondamentale alla realizzazione di questa nostra iniziativa. Vorrei portare i saluti del Dipartimento di Cultura e Civiltà. Per chi non è veronese o chi non conosce l'articolazione della nostra università, nella Università di Verona il Dipartimento di Cultura e Civiltà ha sostanzialmente sostituito quella che nel passato era la gloriosa e tutto sommato rimpianta Facoltà di Lettere, di fatto accogliendo attraverso una serie di successivi accorpamenti di tutti coloro che dopo la fine della facoltà si erano ritrovati sparsi in diversi dipartimenti, quindi letterati storici, storici dell'arte, geografi, storici antichi, filologi antichi, eccetera. Sono davvero orgoglioso di questa serata, sono orgoglioso di portare i saluti del Dipartimento di Cultura e Civiltà e sono orgoglioso che il nostro Dipartimento abbia dato il sostegno a questa iniziativa e abbia fornito poi anche le competenze tecniche nella giuria. Voglio congratularmi, non ancora stata proclamata, ma con la vincitrice, non diciamo ancora il nome anche se il nome era comparso, insomma nella scaletta di Alessandro Arcangeli per una tesi di dottorato come scopriremo fra poco. Concludo questo mio breve intervento davvero auspicando che il premio dedicato all'Aria Caccia possa essere ripetuto in successive edizioni, nei prossimi anni, perché non soltanto l'iniziativa è incommiabile in sé, insomma quella di premiare una tesi di dottorato o una tesi di laurea magistrale o di master, insomma dedicata specificamente alla storia della danza, quindi ad un argomento che è sì un po' di nicchia se volete, ma anche un argomento di grande impatto poi per la cultura europea, per come noi la intendiamo, insomma. La danza non è normalmente oggetto degli studi, insomma degli studi universitari, ed è molto significativo invece che un premio di questo genere valorizzi gli studi dedicati specificamente alla storia della danza. Questa è la prima ragione, senza dubbio insomma, ma la qualità della vincitrice, ma più in generale direi la qualità delle tesi che sono state sottoposte a questa selezione, per come mi è stato riferito dal Presidente della Commissione, mostrano come in giro per l'Europa davvero c'è un'interessante generazione di giovani studiosi che si dedicano con passione e con grande competenza alla storia della danza e che è giusto che trovino anche un riconoscimento, una visibilità in un'occasione come questa. Quindi davvero il mio auspicio è che questo premio possa continuare anche nei prossimi anni ad avere delle altre edizioni e sicuramente il Dipartimento di Cultura e Civiltà darà tutto il sostegno che potrà perché questo si possa di nuovo realizzare. Tanto voglio ancora salutare tutti, in particolare la vincitrice che vedo nel riquadro e insomma con questo davvero chiudo questo mio piccolo intervento. Grazie a tutti. Grazie mille Arnaldo. Francesca Falcone. Ti devi silenziare Francesca. Buonasera a tutti. Con Alessandro ci siamo messi d'accordo appunto su una tematica assai breve del mio intervento, cioè un accenno appunto agli studi storici della danza in Italia, prima di soffermarmi brevemente sulla missione culturale di Airdanza, che è l'Associazione Italiana per la ricerca sulla danza. Di passi in avanti gli studi storici e la ricerca in danza ne ha fatti tantissimi e forse potrebbero sembrare lontani, parlo del 1985, quando in un saggio intitolato Dance Collection, Genevieve Oswald, curator della New York Public Library, così citava, gli storici della cultura e della danza hanno a lungo proclamato il mito secondo il quale il contributo dato dall'Italia alla cultura mondiale è stato l'opera, mentre quello della Francia è stato la danza. La verità sta lentamente emergendo nelle storie scritte sulla danza e gli studiosi ritengono che l'Italia sia anche la culla del balletto tradizionale. Si tratta appunto di una citazione che proviene da un saggio che faceva parte di una mostra, di un catalogo di una mostra, il coreografo perduto Salvatore Viganò con un'introduzione di Ezio Raimondi, ed era appunto nel lontano 1985. La storia degli studi storici in Italia, analogamente appunto a quanto è stato affermato per il balletto dalla Oswald, è quella del cammino identitario di una disciplina appunto che in Italia, rispetto ad altri paesi, marciava con molto ritardo e con grande lentezza. La storia della danza come disciplina era entrata a far parte delle materie istituzionali all'inizio dell'Accademia Nazionale di Danza negli anni 50, il cui insegnamento era stato affidato a Diego Carpitella, dalla direttrice dell'Accademia Nazionale di Danza Ia Ruskaya, un antropologo ed un etnomusicologo. Poi la ricerca in danza ha continuato a svilupparsi negli anni 50 del 900 attraverso operazioni editoriali direi monumentali, quali quella per esempio della pubblicazione dell'Enciclopedia dello Spettacolo, nata da una intuizione geniale di Silvio D'Amico, la cui redazione si è stese dal 1954 al 65 e la danza cominciava anche a fare capolino nelle pubblicazioni delle cronologie dei teatri, tra cui la prima dedicata appunto al ballo, quella curata da Ruffin e Trentin, che era relativa però solo ai balletti, diciamo ai balli tra il 1746 e il 1859 e questo era inserito in un volume curato da Sasportes, balli teatrali a Venezia. Dieci anni prima, parliamo del 1984, sempre Sasportes aveva fondato il periodico La Danza Italiana, un'impresa davvero pionieristica per quei tempi che nasceva dall'esigenza di colmare un grave gap dovuto alla mancanza di studi storici sulla danza che determinava a suo parere la visione spesso distorta e incompleta di ciò che era stata la danza italiana. Il fenomeno d'altronde della creazione delle riviste era naturalmente analogo a quello che si stava creando in Francia e negli stati anglosassoni. D'altra parte anche le ricerche in danza si concentrano anche in Italia intorno a delle riviste come Coreografie ed è la stessa associazione Coreografie che fa appunto oggetto del proprio studio un convegno nel 1999 sulla ricostruzione e sugli aspetti appunto teorici, pratici e didattico-pedagogici. Su queste parole riguardanti la ricostruzione, la ricreazione, la vitalizzazione e la rivitalizzazione della danza nel 2003 che Air Danza organizza il suo primo convegno internazionale. Ma ritorniamo ancora agli inizi degli anni 90 in cui si ha la fondazione della prima cattedra di storia della danza presso il Dams dell'Università di Bologna e la riforma universitaria che era entrata in vigore con il decreto nel 2004-270 aveva previsto l'organizzazione di università e di istituti AFAM, la riorganizzazione dell'impianto quindi con accademie e conservatori dando la possibilità di ampliare enormemente i curriculum e i programmi di studio istituendo anche nuovi indirizzi di laurea specialistica. Quindi gli ambiti di ricerca si sono vie più arricchiti per integrare oggi le estetiche coreiche, studi di teatro, sociale, di comunità ma anche aspetti legati alla storia della performance, alla storia del corpo, alle metodologie di ricerca sulla danza, l'analisi coreografica del movimento, sino a comprendere quegli studi legati anche alla sfera del digitale che mettono sullo stesso piano creazione e percezione dell'immagine. Le pubblicazioni italiane hanno cominciato ad incrementare enormemente e sempre più si è fatta urgente e quanto mai cogente l'aspetto di una ricerca che attraverso i processi del fare, dunque di una ricerca che unisca l'aspetto teorico e pratico, tenga conto proprio di esperienze sensoriali, di senso cinestetico e di principi fisico-meccanici, tutti legati appunto all'ambito poi etico. e quindi rimane sempre valido l'interrogativo su come possa la ricerca che implica appunto il reperimento dei modi e dei metodi attraverso cui costruire dei percorsi di conoscenza con visibile entrare in gioco con il sapere pratico e di come le modalità della ricerca di rimando possano costituire la dimensione intrinseca proprio di nuovi insegnamenti della danza. e in questo appunto una parte attiva appunto negli ambiti degli studi e della ricerca in danza è svolta dall'associazione Air Danza. Air Danza nasce da un gruppo di studiosi, formavano anime diverse, sull'idea di riunirsi e di raggruppare e consolidare delle energie intorno alla ricerca sulla danza. È una prima cellula, nacque nel 1999 a Bologna, grazie agli sforzi della società, di un'associazione, la società di danza, e dalla cattedra di storia della danza e del mimo del Dipartimento di Arte, Musica e Spettacolo e d'altra parte erano gli anni in cui si era riscontrata una esigenza comune di trovare delle modalità sempre più nuove per poter far circolare informazioni, comunicazioni, saperi intorno appunto ad un progetto corale più ampio. E fu così che successivamente, sempre nello stesso ambito, nel 1999, si riunirono poi, ci riunimmo perché anche io sono stata una socia fondatrice, anche Alessandro è stato un socio fondatore presso l'Istituto Universitario Europeo e così, essendo lì presenti, una serie di studiosi provenienti dai diversi ambiti disciplinari, tra docenti, studenti, studiosi, dottorandi, etnomusicologi, coreografi, danzatori, che affrontavano appunto la danza da più prospettive, che si decise appunto di fondare questa, di dare vita a questo atto costitutivo, e quindi si è costituita legalmente l'associazione nel 2001, per iniziativa proprio di un gruppo di studiosi. Le finalità sono ovviamente quelle diverse, insomma, di coordinare, di sviluppare, di moltiplicare gli studi storici, di raccogliere, diciamo, di concentrare il lavoro anche sull'archivio, su una ricerca di, sul tentativo appunto di censire il patrimonio documentario e per la costituzione di un archivio pubblico della danza, che ancora non esiste, e d'altra parte anche quella di favorire lo scambio e le relazioni nazionali e internazionali con gli studiosi. E tra le diverse attività ci sono appunto l'organizzazione, la partecipazione a convegni, conferenze, dibattiti, giornate di incontri e di studio, la raccolta appunto di fondi per promuovere iniziative dei soci, ma anche dei non soci, per cercare di allargare appunto sempre più la comunità di Airdanza, nonché curare appunto la produzione e la pubblicazione di materiali scientifici attraverso appunto una promozione insomma editoriale. E naturalmente qui ho cercato di fare proprio una sintesi, sto chiudendo, è ovvio che gli sforzi di Airdanza si sono concentrati sia sui diversi direttivi che si sono succeduti negli anni, ma anche sullo sforzo e sulla volontà di moltissimi soci che appartenevano non solo alle istituzioni, quindi accademie, conservatorie, istituzioni appunto anche diverse, ma anche freelance, studiosi freelance, che hanno dato un grande contributo appunto alla ricerca, lavorando a fianco di membri dei vari direttivi. Però ecco, io qui vorrei citare la prima presidente, il primo presidente di Airdanza, che è stata Marina Nordera, professore ordinario di studi di danza dell'Université Côte d'Azur, ed è Marina che ha supervisionato la tesi di Bianca Murmaier, e quindi mi sembra che in questo modo il cerchio possa chiudersi, come anche il mio brevissimo intervento. Grazie. Grazie a te Francesca, tra l'altro anche Marina Nordera è qui con noi. Grazie per questa illustrazione, ecco, di sintesi di un campo di studi che come suggeriva prima il direttore non è fra i più noti o praticati, per cui proprio per questo magari anche il nostro pubblico può essere interessato a saperne qualcosa di più. Mi limito a chiusare il fatto che Francesca ha evocato due volte il nome di José Sassportes, è un altro membro del direttivo della nostra associazione, ma è stato anche, sia pure per un anno, il ministro portoghese della cultura. Ecco, ora passiamo a Alfredo Bonapanno. Non ti sentiamo. Bene, buonasera a tutti quanti. Il mio breve intervento è collegato a come è nata l'idea di questa borsa. come dicevo, come avevo detto Alessandro, proprio ancora parecchio di tempo fa ormai, quando tutto avvenne io ero in Francia a un convegno e tornando a casa in aereo mi era venuto in mente che l'unico modo che abbiamo noi umani di sopravvivere probabilmente è il ricordo. Io sono convinto che finché noi veniamo ricordati, il nostro nome è ricordato, sarà forse il mio orientamento di studi che mi porta a queste considerazioni, finché noi veniamo ricordati noi rimaniamo vivi. E allora ho pensato che modo migliore c'è di ricordare una studentessa innamorata della danza. Il modo migliore secondo me era quello di consentire a una sua collega giovane di che magari la storia della danza aveva dedicato e ha dedicato, sta dedicando anche con molta fatica, perché non sappiamo con quanta fatica i giovani oggi facciano ricerca e quale modo migliore c'era che non consentire di proseguire in qualche modo i propri studi. Ed è per questo che mi era venuta in mente questa idea di una borsa che in qualche modo aiutasse, premiasse intanto un'attività di ricerca, ma anche consentisse, aiutasse in qualche modo anche la pubblicazione, che sappiamo che è il primo passo della carriera di uno studioso. Finché non pubblica lui non può cominciare, ma pubblicare è estremamente difficile. Lo sappiamo, costoso, impegnativo. Quindi un piccolo aiuto poteva essere utile. E questo l'ho visto quasi come una sorta di un passaggio di testimone, da parte di Ilaria a una sua collega più giovane. Ecco, chiudo adesso, desidero ringraziare Alessandro perché ha venito subito con un entusiasmo che ha coinvolto anche me, e poi Francesca Falcone e anche quanti si sono resi disponibili per l'organizzazione della giuria e per questi lavori che noi sappiamo sono veramente impegnativi. E l'ultimo ringraziamento a Arnaldo Soldani perché ha messo subito a disposizione immediatamente le risorse del Dipartimento, la sua disponibilità. E anche questo ci ha aiutato molto. Io confido che possiamo continuare anche per il futuro. Adesso vedremo in quale maniera, ma io penso che si possa tranquillamente per alcuni anni avvenire, continuare questa iniziativa. Ecco, io sono convinto che Ilaria da qualche parte è contenta di questo. Grazie. Grazie mille Alfredo. Inviterei ora a intervenire, se vogliono dare un saluto o trasmetterci un ricordo, i genitori di Ilaria, Fabio Caccia e Federica Sanfelici. Dovete anche voi togliervi, reattivarvi l'audio. Ah ok, abbiamo attivato, grazie. Siamo qua. Io, Federica e Fabio, che siamo i genitori di Ilaria. e vogliamo naturalmente ringraziare innanzitutto l'Università di Verona, il Dipartimento di Cultura e Civiltà, l'Associazione Italiana per la Ricerca sulla Danza e Danza e naturalmente in particolare un ringraziamento ad Alfredo, che è docente del Dipartimento e che, come ha detto anche il professor Soldani, è stato proprio il promotore, l'anima prima di questa iniziativa e poi Federica Bagnera che noi abbiamo, diciamo, invitato a rappresentarci in questa avventura. Noi, Ilaria è mancata un anno fa, lei era una studentessa di lettere, è un'amante della danza, della poesia, diciamo due arti secondo me molto collegate e io personalmente, che vengo da studi scientifici, perché ho fatto studi di matematica, ero orgogliosa di avere una figlia che facesse degli studi, scusate, sono un po' emozionata, degli studi umanistici e seguivo con lei, diciamo, i suoi studi e mi sembrava proprio di avere di fronte la possibilità di vivere con lei questi approfondimenti che, diciamo, io non avevo potuto e non avevo forse voluto a suo tempo approfondire, che mi stavano molto coinvolgendo. Io spero anch'io che questa iniziativa possa nel tempo ripetersi, che noi possiamo anche essere forse più partecipi nel futuro, perché mi piacerebbe molto, diciamo, Alfredo ci ha molto coinvolto e ci teneva sempre molto informati. Adesso anche ascoltando le parole di tutti voi mi interesserebbe anche più essere più partecipi in un futuro a tutto quello che si potrà affrontare o proporre. Voglio anche ringraziare tutti quegli amici che sono qua, che grazie tutto sommato al fatto che non si può essere in presenza e possono partecipare, magari forse in un numero maggiore di quello che sarebbe stato se non fossimo così collegati virtualmente. Non so, ci sono, Ilaria faceva, ha fatto danza per vari anni, non era certo una ballerina eccezionale, era una danzatrice, una danzatrice anche della vita, direi. E qui so che vedo che c'è anche la sua maestra di danza, che voglio salutare, Maddalena, e tante sue compagne che hanno ballato e danzato con lei. Oggi mi sono riguardata le foto di tutte le sue performance, chiamiamo così, e mi sono molto emozionata. Ringrazio ancora e passo la parola a mio marito, Fabio. Grazie. Buonasera a tutti, mi associo anch'io a tutti i ringraziamenti. e parlerò un po' di Ilaria, anche se preferirei parlare con Ilaria. La danza per lei era necessità, totalmente necessità, come lo era la scrittura. Ho sentito dire che sono mondi di nicchia, però è anche vero che l'Italia è un insieme di nicchie meravigliose, quindi la danza è una di queste. Necessità perché lei cominciò intanto con la scrittura sin da bambina proprio, che non aveva senz'altro preso da noi, perché la mamma matematica, il papà fisico, giusto per non scrivere, se non formule. Lei scriveva tantissimo e i suoi temi venivano sempre letti, ma sino al liceo. e il suo mondo di nicchie si palesò anche con un concorso di poesia della provincia di Genova, dei tutti i licei, che vinse e guadagnò anche il suo primo incasso, fu quello della poesia, con una poesia lei cominciò a guadagnare. necessità quindi. Necessità da una parte, perché la danza, ora non è un caso che in qualche modo c'era in famiglia, almeno dal punto di vista estetico, e pochi mesi prima, tra l'altro, che andasse altrove Ilaria, lei lavorava con me in un'attività, era un locale, non c'è più, quindi non c'è conflitto di interessi, era una libreria, caffetteria, con competenze scientifiche, però poi la scienza di questo, bisogna prenderne atto, ci permette di andare in ogni luogo delle culture, e mi piace questo dipartimento come nuovo nome, perché delle culture, delle civiltà, mi piace il plurale, che Bianca, non vorrei anticipare, mette evidenzia nel suo lavoro, che è stato premiato, e pochi mesi prima, appunto, abbiamo riletto insieme il testamento di Rudolf Nuriyev, e lo dico alla russa, perché penso che sia corretto così, anche se lui ha viaggiato, e ha portato la danza ovunque, e il testamento finisce che dice, non tutti possiamo essere ballerini, ma tutti dobbiamo danzare, e questo sicuramente Air Danza proprio, ne fa un manifesto di questo, perché è veramente, io trovo incantevole che si parli di danza, perché proprio sin dall'antica Grecia, ma ancora prima, il mondo rituale, religioso, il menadismo greco, ho sentito che ci sono esperti della Grecia antica, è sempre stato affiancato alla civiltà, alla danza, quindi è una nicchia particolare, io poi diciamo che come fisico la vedo anche negli universi, ecco, perché è proprio spazio e tempo, questo corpo che fluttua nello spazio e nel tempo, e se vogliamo, non voglio fare, diciamo, il divulgatore, perché non è questo il contesto, ma l'aria sa che sono così, quindi se l'aspetta senz'altro, ma ormai l'equazione di campo di Einstein mette insieme lo spazio e il tempo e lo collega all'energia e alla massa, la massa che è la materia, oggi sappiamo che praticamente è composta di energia, quindi noi abbiamo da una parte l'energia e dall'altra parte lo spazio-tempo, la danza mette insieme queste cose, quindi è proprio, è un leitmotiv, un koan proprio che va ripetuto, perché da quando, almeno quasi 14 miliardi di anni, di quello che conosciamo, noi conosciamo poco, praticamente il 95% di quello che noi chiamiamo universo è oscuro, tra la materia e l'energia, quindi siamo ancora ai primi passi, ma sicuramente la danza è presente da sempre. Un bel libro di Capra cita proprio la danza cosmica, questo gioco di particelle virtuali che fanno sì che noi parliamo, esistiamo, viviamo e moriamo perché il ciclo della vita è così come l'ultimo capitolo del sistema periodico di Primo Levi che è sul carbonio, che consiglierei magari di rileggere ogni tanto perché è l'unica grande preghiera laica che ci avvicina anche a chi non è più in questa consapevolezza che chiamiamo vita. Grazie a tutti. Grazie mille anche a Federica e Fabio. Se non ricordo male, del sistema periodico c'è anche un podcast della RAI, è possibile anche ascoltarlo in lettura, l'ho fatto durante questa bizzarra primavera. Ecco, ora riprendo la parola io per presentarvi i lavori della Commissione, la motivazione della premiazione e la proclamazione della vincitrice. Anzi, magari lo faccio in forma di condivisione dello schermo così potete anche seguire la mia lettura. Motivazione della giuria per l'attribuzione della Borsa di studio e l'area CAC 2020 alla tesi di dottorato di Bianca Maormeyer In questa prima edizione della Borsa di studio e l'area CAC, la Commissione giudicatrice ha ricevuto un congruo numero di dissertazioni di livello magistrale e dottorale provenienti da continenti e redatte in tre lingue diverse. La qualità di una buona parte di loro era notevole, la loro lettura ha colpito i commissari che hanno ricavato da questa esperienza un significativo arricchimento culturale. La scelta è stata di conseguenza difficile, ma è dopo la dovuta considerazione unanimemente caduta sul lavoro qui menzionato. La tesi di dottorato di Bianca Maormeyer, elaborata sotto la supervisione di Marina Nordera e discussa all'Université Côte d'Azur a Nizza nel novembre del 2018, è dedicata a una circolazione di forme di spettacolo di ballo da Venezia a Parigi e ritorno lungo un arco temporale che spazia dalla metà del Cinquecento al primo Settecento. Si basa fra l'altro su uno studio assai attento dei libretti e delle specificità che la documentazione ci permette di ricostruire, delle loro diverse messe in scena, con attenzione puntuale anche alle particolarità del lessico, incluse influenze reciproche e adattamenti. La mobilità di persone, oggetti, idee e forme di sensibilità, con tutta una serie di implicazioni fra cui prominenti sono gli incontri e scambi culturali, è un tema di grande attualità negli studi storici, geografici e di gran parte delle altre scienze sociali, in un'epoca come la nostra, che ne è attraversata e caratterizzata in termini e dimensioni che sembrano continuamente raggiungere nuovi livelli. È anche in questa prospettiva che è suggestivo e importante esaminare questo genere di fenomeni nel passato, dato che lo studio della storia è sempre posizionato nelle realtà da cui la si guarda e con quella intrattiene una varietà di intrecci. Italiana migrata in Francia per studio e lavoro, Bianca Maormaier a suo modo ripercorre i tragitti degli artisti secentischi che ha studiato, ma il dialogo fra soggetto e oggetto del suo studio è molto meno estrinseco di quanto questo puro rilievo biografico potrebbe lasciare apparire. L'autrice ha maturato un interesse per la danza barocca che sa eseguire anche come performer e questa familiarità con il repertorio gestuale che le deriva dall'incorporazione di una prassi esecutiva è convocata espressamente all'interno della sua ricerca quando viene a discutere dettagli stilistici che contribuiscono a definire che cosa si trasmetta nei transfer fra le culture coreutiche di qua e di là delle Alpi, cos'altro le differenze. È anche questa qualità che ha tirato una speciale considerazione da parte della Commissione, visto che il coinvolgimento consapevole della persona e del punto di vista della ricercatrice, anziché venire inibito e disapprovato quale elemento di disturbo dell'analisi, si tende oggi a valorizzare, una volta messi in discussione, gli ideali ottocenteschi di una neutralità dell'osservatore e oggettività della realtà ricostruibile. Il risultato di questo sguardo, anche grazie all'utilizzo di una fitta serie di letture teorico-metodologiche in una pluralità di ambiti disciplinari e all'eleganza della scrittura, oltretutto in una lingua acquisita, porta un contributo di primo ordine ai campi degli studi di danza e della storia culturale del periodo esaminato. Per questo insieme di ragioni, la Commissione giudicatrice aggiudica a Bianca Maurmaier la borsa di studio Ilaria Caccia 2020 e auspica la pubblicazione del suo elaborato in adeguata sede editoriale. Con i complimenti della Commissione, formata, come sapete, da me, Federica Bagnera, Federica Falcone e Frederick Nerebaum. Cedo ora la parola a Bianca Maurmaier perché ci illustri il suo lavoro. Buonasera, grazie davvero per questa bellissima occasione, sono molto emozionata. Ci tengo a ringraziare prima di tutto il Dipartimento Culture e Civiltà dell'Università di Verona e l'Associazione Italiana per la Ricerca sulla Danza e Irdanza, nonché la Commissione tutta per l'onore che mi avete conferito. E un ringraziamento in particolare va al presidente della Commissione, il professore Alessandro Arcangeli, alla presidentessa dell'Associazione Francesca Falcone e ovviamente ai familiari di Ilaria Caccia. Mi permetto di condividere una piccola presentazione per poter meglio entrare nella questione della mia tesi. Questa borsa di studio intitolata ad una giovane donna che voglio definire ricercatrice e artista gratifica diversi anni di studio e ricerca nati da una necessità interna scoperta al mio arrivo nel 2007 all'Università di Mizza in laurea triennale studi in danza. Il professor Arcangeli parlava di soggettività, Francesca Falcone parlava di necessità di indagare gli studi dall'esperienza cinestetica del gesto da proprio da qui che vorrei quindi cominciare. Nel 2007 mi trovavo quindi in una sala di danza con la professoressa Nordera che è poi divenuta la mia direttrice e relatrice della tesi di dottorato. Fu allora che scoprì la danza di corte francese del XVII secolo o la cosiddetta belle danse con le sue cinque posizioni en dehors, le opposizioni delle braccia, i suoi coupés pas de bourrée en trois chats. Tutto mi sembrava familiare e allo stesso tempo non identico a quello a cui ero abituata. Così che ho cominciato a studiare la belle danse in maniera approfondita presso diverse maestre di giro per l'Italia e la Francia proprio per poter rispondere a questa esigenza, a questa sensazione di estraneità davanti alla materia corporea. Nel corso degli anni ho poi realizzato che attraverso questa danza di cui iniziavo a rimettere in discussione l'appartenenza francese grazie proprio a quegli insegnamenti ricevuti, stavo interrogando la mia stessa identità. Così come la belle danse non poteva essere racchiusa in una categoria ben definita, con i contorni spaziali e temporali delimitati una volta per tutte all'area francese dell'Ancien Régime, così io stessa riadattavo i miei territori fisici e culturali a seconda dell'interlocutore tra Italia e Francia. Questo movimento, non solo astratto ma concreto, si rispecchia nel titolo della tesi. Une culture coreographique au fil des air transfert et adattation poétique entre Venise et Paris au XVIIe siècle. Una cultura coreografica seguendo le arie, trasferimenti e adattamenti poetici tra Venezia e Parigi nel Seicento. L'espressione figurata au fil des air che ho deciso di tradurre qui con seguendo le arie risulterà senz'altro un po' enigmatica e mi propongo quindi in un primo momento di sciogliere questa ambiguità per poi vedere alle diverse parti che costituiscono la tesi. Ricalcata sul modo di dire francese au fil de l'eau che significa seguendo la corrente ma anche progressivamente in itinere, l'espressione è stata qui modificata sostituendo l'elemento dell'acqua con l'elemento certo simbolico dell'aria e questo per suggerire al lettore i numerosi oggetti di studio e campi del sapere che il lavoro di ricerca intende percorrere. Lungo le pagine il lettore troverà le belle e cavalleresche maniere mi permetto così potete vedere meglio le belle e cavalleresche maniere le creanze e le disposizioni del corpo istruito alla danza nobile e pronto a mettersi in movimento o in francese bon air e bonne grâce le materie fluttuanti che viaggiano e trasformano uno spazio les airs du temps o spirito del tempo e gli elementi artistici passati e trasferiti da uno spazio all'altro tra cui le arie, airs musicali e coreografiche. Ma al di là di questo investimento simbolico il termine air assume nell'attesi un valore centrale perché grazie ad un'assonanza fonetica che è possibile nella lingua francese si rimanda alle diverse aree geografiche analizzate airs geografiques nonché le ere storiche attraversate airs historiques lo spazio metaforico che il titolo della tesi vuole offrire coglie quindi la mobilità culturale e coreografica o i trasferimenti culturali nella cultura di danza tra Italia e Francia e in particolare tra Venezia e Parigi nel corso del Seicento mi sono servita della nozione di trasferimento culturale derivata dalla gecreutzte geschichte e applicata a una storia culturale delle arti sceniche e della danza per intendere la cultura dello spettacolo come il risultato del dialogo tra identità e corporeità un risultato che è in continua evoluzione e dinamico e che va ben al di là di frontiere territoriali e nazionali cosa significa infatti danza francese a cosa allude l'espressione stile italiano il lavoro della tesi vuole proprio disfarsi dell'idea di una produzione nazionale cercoscritta ad un solo territorio e che pretende di esserne emersa in maniera autonoma cerca piuttosto di riconoscere i prestiti linguistici e cinetici dall'una all'altra ed indagare i fenomeni di relazione interazione e circolazione fra opere persone e oggetti attraverso un campo campo di studio che diventa inevitabilmente vasto si danno molteplici possibilità al ricercatore che vi si affaccia basti pensare alle esperienze coreotiche di Firenze Torino Roma o Napoli fondamentali per il Seicento e che rimangono comunque protagoniste del viaggio tuttavia ciò che ho preferito mettere in risalto è lo ruolo privilegiato del teatro pubblico veneziano nato proprio nel 1637 e del suo ballo e dramma per musica che da Venezia si espande a livello nazionale e internazionale per carpire quindi appieno la materia analizzata vorrei esporre in maniera molto breve le tre parti che vanno a costituire la tesi la prima traccia e contorni pone l'accento sulle diverse espressioni utilizzate oggi per riferirsi alla danza del Seicento alle classiche categorie di rinascimento danza barocca danza sociale danza teatrale o del rinomato ma profondamente problematico Belle de Cour ho preferito le espressioni mutuate da formulazioni contemporanee per l'epoca per un'esigenza prettamente metodologica rifarsi infatti alle espressioni tassonomiche non fa che reiterare il carattere arbitrario della categorizzazione storica ed estetica la cui ricezione oggi impone un esame critico che deve tener conto dell'elemento pratico e della fonte particolare il Ballet de Cour eretto dalla disciplina stessa della storia della danza a canone per leggere le diverse esperienze coreutiche europee del Seicento è oggetto di una lunga critica lessicale ed estetica di cui avete qui un brevissimo assaggio rispetto ai punti principali che tratto nella tesi attraverso poi una metodologia qualitativa e un'indagine microscopica ho guardato al ballo teatrale veneziano come valido contromodello alla tradizione storiografica del balletto francese lo studio del ballo veneziano permette inoltre di esprimere un'ulteriore constatazione metodologica tuttavia centrale per la ricerca anche qualora il corpus documentario d'ordine testuale su di una pratica coreutica è deficitario come è proprio il caso della danza veneziana è comunque possibile ritracciare tale pratica nello specifico è la lettura ex negativo e intertestuale dei libretti dei dramma per musica che permette di conferire una nuova presenza culturale al ballo veneziano e almeno parzialmente di ritrovarne la materia corporea nella seconda parte il ballo teatrale veneziano oltralte analizzo come durante lo scambio artisti opere e modelli estetici incorrano in un trasferimento in una trasformazione scusatemi profonda che è legata in ugual misura alla cultura di appartenenza alla cultura ospite il caso di studio della finta pazza prodotta a Venezia nel 1641 è presto esportata a Parma Firenze Bologna e anche Parigi dimostra proprio come la circolazione non si vincoli mai ad un'imposizione di genere ma a un adattamento del materiale artistico adattamento che decido di definire poetico poiché è sperito nel tempo presente tra autori fruitori e oggetto che producono questo adattamento riguarda anche la corporità danzante che può rielaborare il suo retroterra culturale e artistico durante il trasferimento lo dimostra l'analisi di una serie di 18 incisioni pubblicate a Parigi nel 1645 e dedicata alla regina madre Anna d'Austria intitolate Balletti di invenzione nella finta pazza di Giovan Batta Balbi queste incisioni riflettono l'opera del compositore di balli veneziano Giovanni Battista Balbi attore principale della circolazione della finta pazza tra le altre cose proprio a Parigi l'analisi sincronica e diacronica con altre fonti iconografiche e la simulazione percettiva del gesto rappresentato nelle incisioni rivelano sì alcune convenzioni coreografiche legate alla rappresentazione di certi personaggi ma anche una risonanza cinestetica tra le tradizioni di danza italiana e francese approfitto tra l'altro di quest'occasione per annunciare che un sunto della metodologia messa in atto per l'analisi di questa fonte particolare verrà presto pubblicato nella rivista Perspective dell'Institut nazionale di Stoardo Luffe Infine nella terza parte sguardi incrociati sulle maniere italiana e francese sposto l'attenzione sull'agentivity dei fruitori dello scambio per guardare alla traslazione culturale e transculturale dal loro punto di vista lo studio delle maggiori opere all'italiana prodotte a Parigi tra 1654 e 1662 delinea le modalità artistiche messe in atto dai francesi per l'appropriazione e la configurazione del genere dramma in un secondo momento l'analisi sperimentale di passi e contenuti motori che la belle danse può aver mutuato dalla tecnica italiana conduce a carpire quali fossero i fenomeni di imitazione trasposizione e appropriazione della corporeità danzante tra Italia e Francia senza dimenticare ovviamente in questa analisi la danza spagnola e la danza locale quella francese tradizionale ho cercato dunque di ritracciare così le origini multiple della belle danse e le risonanze cinestetiche tra per chi conoscesse le danze storiche seguito e padoburre continenza e pagrave strisce in volta e pirouette sur deux appuis per ampliare ulteriormente lo studio dell'integrazione di un'alterità culturale ho ripreso e ripercorso alcune celebri partiture manoscritte incise in notazione bouchon feuillet a soggetto italiano prima di tutto le chaconne di Arlecchino a conclusione del viaggio sono tornata là da dove ero partita vale a dire a Venezia e ho sottolineato quello che possiamo definire un'importazione attiva della belle danse di cui i maestri di danza e i danzatori professionisti sono le autorità chiamate a decidere l'obiettivo della tesi è quindi di identificare la tensione dialettica tra la costruzione di un discorso attorno al genio francese della danza del seicento eretto a modello e la stratificazione culturale e coreografica attiva invece nella pratica di danza questo obiettivo può solo essere conseguito attraverso l'incorporazione la sperimentazione e l'esperienza cinestetica del gesto rinnovo quindi i miei ringraziamenti alla commissione ai professori presenti ai familiari alla mia relatrice e a tutte quelle persone che mi hanno accompagnata in questo percorso e il viaggio grazie ancora grazie a te Bianca per questa richissima presentazione ora ci sarebbe spazio per chi volesse fare delle osservazioni delle domande questo è un evento insomma un'opera aperta abbiamo finito la scaletta nel senso degli interventi previsti però questa è anche un'occasione per scambiarsi qualche informazione commento idea fra l'altro come abbiamo anche anticipato è presente qui anche Marina Nordera la direttrice della tesi che avevamo per essere a dire il vero invitato a far parte della commissione giudicatrice ma ha dovuto dimettersi quando ben due sue allieve hanno fatto domanda e eventualmente lei non si è sentita in grado di proporre una comparativa spassionata del loro lavoro rispetto a quegli altrui ma chiunque avesse qualche osservazione può prendere la parola o alzare c'è anche la funzione di alzare la mano o scrivere nella chat eventualmente se volesse fare delle domande o osservazioni prego se non abbiamo altri dubbi o contributi non facciamo che ringraziare tutti Alessandro c'è una domanda ah perfetto mi piacerebbe visto che quel periodo storico che è stato esaminato da Bianca è un periodo importantissimo per la musica se vogliamo la musica che oggi noi ascoltiamo è frutto di quel periodo mi riferisco al periodo barocco essenzialmente però partendo da Monteverdi quindi proprio nel pieno quanto si sono amalgamati e arricchiti la diciamo la musica degli affetti che è proprio un'invenzione barocca con la danza di quel periodo Bianca vuoi posso rispondere con un esempio che rimanda di nuovo a quanto sia importante quando facciamo i nostri studi i studi in danza di entrare nella pratica e cercare di sperimentare dall'interno il gesto e quanto alla soggettività del ricercatore sia importante la sua memoria abbiamo iniziato questo incontro parlando anche di memoria una delle primissime esperienze che mi ha portato anche probabilmente a scegliere questo periodo e a pensare proprio a Monteverdi è stata sempre con Marina la reinvenzione del combattimento di Tancredi e Clorinda musicata da da Monteverdi e a partire dal testo del tasso abbiamo cercato di ritrovare il gesto che poteva dare corpo e materia alle parole e alla musica di Monteverdi perché il combattimento di Tancredi e Clorinda è stato presentato anche come ballo anche come gesto e in quel senso ha prodotto un'emozione un affetto non indifferente nel pubblico che vi ha assistito quindi sicuramente necessario e importante non so se sono stata abbastanza chiara però lei ha fatto felice il direttore sa uno studioso di tasso grazie anche a Fabio per questa domanda perché ha toccato un punto come la musica degli affetti appunto che non è che sia esattamente noto all'universo mondo ma è fondamentale per l'estetica barocca ed è praticamente suggestivo fra l'altro in un'epoca come il mondo degli studi di oggi considerato che in Italia è un po' meno ma nel resto del mondo si fa molta storia delle emozioni prestando attenzione all'universi delle sensibilità che variano nel corso del tempo e prestando proprio attenzione per tornare poi adesso anche alla risposta di Bianca all'interfaccia come interagiscono l'uno con l'altro la sensibilità degli affetti e la gestualità e per cui da questo punto di vista musica e danza non potrebbero che andare assieme e costituiscono in qualche modo una cifra profondamente caratteristica dell'epoca ma c'è anche Maria Nordera che vuole dire qualcosa Buonasera a tutti sono ovviamente molto felice di questo momento e non volevo intervenire ma visto che sono stata tirata in mezzo da più voci volevo solo dire che sono estremamente orgogliosa di Bianca le ho inviato un piccolo messaggio privato prima di dirlo a voi e non sono orgogliosa soltanto perché è stata una mia studentessa modello dal suo primo anno della laurea breve fino al dottorato e oltre ma perché in tutto questo percorso è diventata anche un'amica e una collega su cui ci si può veramente su cui si può veramente contare dal punto di vista scientifico e umano quindi sono veramente contenta che questo premio sia andato a lei perché è un premio scientifico ma che mi sembra anche pieno di umanità dalle parole di tutti voi grazie grazie a te Marina ecco penso che su queste su queste tonne queste parole possiamo chiudere l'evento come sapete appunto è stato registrato per cui poi vedremo di mettere a farci colare mettere a disposizione il video sui due portali dell'associazione e del dipartimento grazie a tutti per la partecipazione con particolare calore ai familiari gli amici di l'area che sono qui così numerosi spero che abbiano gradito anche appunto l'organizzazione dell'evento la maniera in cui si è svolta che spero che credo abbia risposto anche alle aspettative all'idea che era nata in Alfredo e in chi l'ha accompagnato e ci diamo appuntamento a altre occasioni magari appunto a una nuova edizione speriamo anche vedendoci di persona anche se devo dire che sottoscrivo l'osservazione che con queste videoconferenze si riesce a partecipare a molte cose di più di prima e allora magari si viaggia per il mondo e si imparano anche tante cose e si conoscono altre persone buona serata a tutti e grazie per la partecipazione grazie 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 a tutti con noi grazie a tutti